Maxi Morales, sicuramente una settimana diversa questa per l'Atalanta dopo il successo contro l'Udinese, sicuramente una bella boccata d'ossigeno, non soltanto per la classifica, ma sicuramente una vittoria che è servita anche sotto il profilo del morale, sei d'accordo? Abbiamo fatto una grande partita in tutti gli aspetti, credo che la vittoria è meritata, quindi felici per quello, poi abbiamo uscito un po' dalla zona lì di sotto, però questo ha cominciato adesso, speriamo di continuare per questa senda, credo che siamo bene. Ecco, continuare su questa strada e già c'è subito il primo impegno in anticipo contro il Chievo sabato a Verona. Speriamo di fare la stessa partita che abbiamo fatto qua domenica scorsa, con lo stesso atteggiamento, poi la squadra loro sono forte, speriamo di riuscire a fare il risultato che per noi sarà bene, speriamo, come ho detto prima, di continuare con quello atteggiamento che abbiamo fatto domenica, che credo che è il giusto.